Dal 7 al 31 gennaio gli studenti dovranno procedere all'iscrizione scolastica per l'anno 2020-2021. Per orientare gli studenti verso una scelta consapevole, il Liceo Alfonso Gatto di Agropoli organizza percorsi propedeutici, ovvero laboratori in cui i ragazzi possano vivere, brevi ma intense, esperienze formative che caratterizzeranno i diversi indirizzi, classico, scientifico, scientifico, opzione, scienze applicate, linguistico e musicale. Sono già attivi nella sede del liceo classico e musicale di Via Pio X, i laboratori di latino e greco che si tengono ogni giovedì dalle 15 alle 17 e il laboratorio musicale ogni mercoledì. Presso la scuola Gino Rossivairo invece saranno organizzati i laboratori di lingue straniere. I studenti del liceo hanno realizzato uno spot per pubblicizzare gli open day programmati dalla scuola, previsti per il 14 dicembre 2019 presso la sede del liceo classico e musicale in Via Pio X dalle ore 16 alle 20, l'11 gennaio 2020 presso la sede del liceo scientifico in Via Dante Alighieri dalle 16 alle 20, per terminare il 17 gennaio presso la sede del liceo classico che resterà aperta dalle 18 alle 22 per celebrare la notte nazionale dei licei classici, nata nel 2014 dalla felice intuizione di Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il liceo classico Gulli Pennisi di Acireale. L'intento è quello di promuovere il valore della cultura umanistica e di dare agli studenti l'opportunità di esprimere le loro capacità intellettive e creative. Il liceo apre le porte per accogliere gli studenti i laboratori di chimica, fisica, informatica, lingue in cui si sentiranno protagonisti attivi. Sarà presentata l'offerta formativa della scuola, i diversi indirizzi e le discipline caratterizzanti, i progetti integrativi del curricolare ed extracurricolari, con particolare attenzione ai percorsi di valorizzazione dell'eccellenza, di scambi culturali, di certificazione delle competenze, di cittadinanza attiva. Liceo Gatto Alfonso di Agropoli, coloriamo i saperi, questo è il messaggio che accompagnerà le diverse attività proposte dalla scuola.